Mi hanno chiesto di parlare del controllo della mente. Controllare la mente può essere utile in determinate situazioni, quando ci impediamo di compiere qualche atto funesto, ma il più delle volte, se è una costante quotidiana, un controllo continuativo, possiamo farci soltanto del male. Controllare la mente significa essere continuamente in tensione con se stessi. Questo è il motivo per cui in Oriente invitano le persone, più che a controllare la mente, ad osservarla. E osservandola, dicono, che possiamo divenire consapevoli di ciò che è bene e di ciò che è male e di conseguenza abbandoniamo in maniera spontanea quello che non ci fa bene e che non fa bene neanche agli altri. Abbandoniamo quei comportamenti che sono nocivi per noi stessi e anche per gli altri. C'è una bellissima storiella di Na raccontata dal maestro indiano Ramakrishna Paramansa in merito alla consapevolezza. Gli chiesero, maestro, ma io non riesco a controllare la mente, come devo fare? Non ce la faccio. Ramakrishna gli disse, ma sei pazzo, ma cosa vuoi controllare? Più controlli e più vai in tensione, più diventi nervoso. Adesso ti racconto una storia, così capirai quello che devi fare. C'è un matrimonio e a questo matrimonio partecipano un sacco di invitati. Ce n'è uno in particolare che sta mangiando e bevendo tantissima roba. A un certo punto la sposa lo guarda e dice al futuro marito, ma l'hai invitato tu? Il marito guarda la sposa, poi guarda questo auto invitato e dice, no, non l'ho invitato, io pensavo l'avessi invitato tu. E quello che sta rubando un po' tutto, da mangiare e da bere, si sente osservato. E nel momento in cui si sente osservato, quindi scoperto, scappa. Allo stesso modo la nostra mente, se si sente osservata, quindi se noi osserviamo i nostri pensieri e anziché combatterli semplicemente ne prendiamo coscienza, ecco che in automatico questi pensieri se sono dannosi se ne vanno, perché prendendo consapevolezza ci rendiamo conto che non vanno assolutamente bene e riusciamo più facilmente ad abbandonarli, proprio perché non creiamo nuove tensioni. Li osserviamo, prendiamo coscienza, consapevolezza, ci diciamo che tutto sommato possiamo vivere anche senza di loro e andiamo avanti tranquilli sulla nostra strada. Tante volte mi capita di sentir dire Ah, hai fatto quella roba lì, hai detto queste cose, è il tuo ego che fa accadere tutto questo. Ma la persona che ha parlato non si rende conto di avere a propria volta un ego che dice ad un altro ego, è il tuo ego. Tutto questo è ridicolo, è paradossale. Un ego che combatte un altro ego. Non fanno altro che rafforzarsi a vicenda. Quindi io quando voglio combattere il mio ego non faccio altro che creare una bella palestra e del bell'addestramento per far diventare ancora più forte il mio ego. Lo alleno. Meglio lasciarlo combattere da solo, osservarlo, prenderne consapevolezza. Così i suoi pugni vanno a vuoto e piano piano, piano piano si stanca. E la smette. Se vorrai venire a trovarmi, sarò ben felice di accoglierti. Se pensi che questo video possa essere di aiuto anche a qualcun altro, grazie di cuore per la condivisione.